buongiorno ragazzi come andiamo oggi con una magnifica giornata devo dirlo ritorniamo di nuovo nel parco di portofino precisamente nella zona di san rocco e vediamo se riusciamo a fare una passeggiata senza mettere queste dato che è qualche giorno che non sono diventate più obbligatorie speriamo di andare in una via di guarigione definitiva e niente dicevo partiremo da san rocco e faremo un giro allora siamo arrivati a san rocco abbiamo parcheggiato complice anche la la bella giornata c'è un sacco di gente speriamo che sia sia gente che sappia andare a camminare che non si improvvi perché di gente che crede di essere esperta nei sentieri ne abbiamo già trovata e bisogna sempre stare attenti quando si va a camminare comunque poi arriveremo dalla piazza dove sia la chiesa e da lì inizieremo il sentiero questo è il sentiero di oggi dobbiamo seguire i due triangoli bianchi direzione tocca da da san rocco di camugli questo è quello che offre il panorama sul mare ligure e la costa quando si vengono a fare queste passeggiate quello che consiglio di arrivare abbastanza presto la mattina per evitare di avere problemi di parcheggio dato che il parcheggio è molto molto scarso e la gente diciamo che si parcheggia quasi l'uno sopra l'altro oppure fate come noi che siamo arrivati all'ora di pranzo e siamo stati abbastanza fortunati nel trovare un buco se no vi posso consigliare di prendere i mezzi pubblici che arrivano direttamente a san rocco e evitate tutti questi problematiche di parcheggio ed è anche dell'autostrada il cartello già così ma con la sbarra aperta illude praticamente la gente per fare il sentiero chiaro ma infilandosi in un'area di cantiere quando il passaggio alternativo è stato creato ed è questo qua quindi prestare attenzione a non infilarsi in mezzo alle ruspe perché il cantiere dovrebbe essere chiuso in realtà invece è aperto e la gente ci sta infilando senza problemi questa è un'altra problematica che indica la scarsità anche di segnaletica perché ok che in questo caso si stanno facendo dei lavori di manutenzione come si vede qua sotto però se fosse indicata meglio la gente eviterebbe di infilarsi nei cantieri e di farsi male comunque siamo arrivati alla fine del percorso alternativo e proseguiamo ora sul sentiero ufficiale e qui abbandoniamo il sentiero in comune con i due pallini per le batterie san frittuoso e andiamo verso tocca pietre strette e si sale pazienza eccoci arrivati noi siamo qui a tocca croce via dei vari sentieri si può proseguire verso semaforo nuovo si può proseguire verso le pietre strette verso o verso la località sequoia oppure tornare in giù a fornelli martola e san rocco che è il mappa del parco di portofino e questo è il paesaggio questo è il panificio che vi consiglio quando finite le passeggiate sul monte di portofino e siete nella zona di san rocco e andateci che è ottimo